Il team dei mates è tornato su Fortnite Con un piccolo problema L'altro giorno mi si era tranciato il cavo della videocamera Quindi purtroppo in questo video non ci sarà la webcam Facciamo finta di niente Un video in vecchio stile dove c'è solamente il nostro commentary 50.000 like E nel prossimo video di Fortnite con i mates Avremo 4 webcam L'ho azzardata Ma ci proviamo Io vi auguro una buona visione Beppe è pronto per la discoteca Ma che schifo Va bene allora dove si fa? Hai cambiato qualcosa dall'ultima volta? No Aspetta ma vedete un buco d'erba dentro Al polare Hai metto tutto Giuseppe Hai metto tutto Vabbè dai decide prima Giuseppe Dai va bene Decido io Decido io Decido io No no lì non ci vado neanche Non c'era qua per tutti Porca Eva Ok qua va bene Se sceghi di merda è colpa di essere Ti piaceva la spada? Ma è come se avessi selezionato il mare Non c'è niente C'è un botto di gente C'è qualcuno qua Cambio piano mi fermo al distributore Siamo tutti divisi Siamo tutti divisi Preso uno Aspetta raga ma come si gioca? Aspetta Ma che continuo Come si gioca? Ho un cucina a cecchino Ho paura di usarlo Raga nemici Suri quelle cose viola Che ti sono uscite Ti servono? Le palline? Guarda se vuoi Se vuoi ho anche le trappole Te lo ho tutte Ragazzi nemici Ma si lasciarli fare Il tato è bianco Ragazzi sono 3 da me Dalla casa cane mi sparano Troppi team raga 74 danni a quello su ping E qua da me Mi sciolta mi sciolta mi sciolta Mi sciolta in due Vengo da voi eh Vai vai Oh cavolo pure di là Ma che tu Beppe Aspetta a usar il palotto Ragazzi non è morto Ha un colpo One shot One shot Ok Volevo detto che è morto Arriva l'amico Arriva l'amico E lì l'amico L'amico è l'altro Ok Tira su Sasha Anche vi copro Oh c'è uno No sono in due Non uno solo Sono due Sono due E io mi sto curando Un secondo Caduto uno Eh io sono morto raga Non ho più materiale No no l'ha terrato uno L'ha terrato uno L'ha terrato una resistenza Sprovando Sono rimasti in due Quindi dobbiamo solo uccidere Questi due tizi E ce l'abbiamo fatta L'ho uccisi È la squadra Bravo Surrey Non mi sento il piacere Giocare con voi Comunque si avvicina la safe Amici miei Il primo fight Direi che possiamo anche andare Mi vedo abbastanza on fire E' arrivando la tempesta raga Tenetela d'occhio Perché vi sta arrivando addosso Aiai mi sparano raga Da dove? 27 blu a quello che ti stava inseguendo 31 Doppio 31 27 rotto lo scudo Bianco eh 54 bianco L'ho terrato L'ho terrato uno eh Qui sono? Oh Ragazzi c'è un cecchino Non so dove Qua Preso Headshot al cecchino Ho ucciso anche l'altro Perché sta cadendo casa? Perché c'è un dinosauro? No no E' una roba che lancio Io sono granate Aspettate L'hai preso C'è un lama Raga sono morto No ma va Mi sa che lo vado a prendere Come ha fatto Come ha fatto? C'è un medico qua per te Giuse Si Prendilo Surry Prendilo te Sparalo Sparalo Giuse vieni da me Che ti do il mio snurf Mi sto curando Sud est Sopra o sud est Sotto Non lo so Comunque 16 persone rimaste Questa lobby è stata scolosa da qualcuno Tanto siamo safe Adesso aspettiamo 20 secondi Capitiamo al vulcano Facciamo una cosa ragazzi Capiamo dove è la prossima safe adesso E poi andiamo lì E spariamo gli amici Ah c'è 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 67 67 Ho capitato Adesso c'è un sacco di gente Eh si 10 10 10 Mi ha fatto un sacco di danni Intanto Chi è che ha una polsa a 50 Uno senza scudo Stanno sparando Uno a terra Preso uno Occhio vola uno Giuse Vai che muore Giuse Vai 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 Ti aiuto Giuse Ti faccio cadere Ti faccio cadere Vai che muore Vai che muore ragazzi Il morto raga è morto Gai vai a guanica Su reinizza a scendere da loro Ah è a sinistra raga l'altro sinistra Le munizioni della air Bacia la goppa Alla prima Alla prima Alla prima Alla prima veramente Non trovi un lama Non si può perdere La missione mezza è compiuta Cosa ma cosa That's incredible col beppe che ri per terra con la saliva eccolo bene che vuoi farla finire sulla stare bettivo pinnacoli se porco 2 c'è un pompa leggendario ma rubato avanti al naso ottimo ragazza piazzi un pompa per voi piccola 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 presi entrambi sopra di me raga silenzio ma come si la dica il sito non ti vede qualcuno ci sta pushando su risultati a prendere le tre di quei due occhio sta salendo sul tetto surri e faccio il giro l'ammazzo è qua è qua io ho fatto 40 bianco arrivo da voi scappando non riesco a prendere ma guarda che ninja maledetto no ti ha fatto fuori bravo giuseppe poi ci hanno fatto fuori surri ragazzi io sento sparare ma non capisco cosa mi sono preso indicato e power c'è gente qua dentro preso oh c***o l'altro preso l'altro pure giuseppe prendi questo scudo qui prendi questo scudo qua arrivo arrivo è scappato bastardo è volato in aria scappato è morto a terra qui 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 è stato dove è stato stato ucciso preso bianco è morto è cali sei ore mi chiamo e ma c'erano a tre di qua no ho finito i materiali non ci credo è pure io l'ho finito non ci credo mi ero accorto giuseppe one hit ha perso 100 danni sto tipo e li lia destra giuseppe chiudi sa fatto un buon atterraggio bravo suri che serveransi ti aprendiamo pronto massi dai ma basta gotham ma basta gerne è gene gene gena sabina finità fate deve dare una mano cioè pure non città cono da una mano e presu昨è sto al picked o cazzo possibile che non ci sia una chest qui mi hanno trappolato ma sono io aiuto sto per crepare sto per crepare arrivo grazie che mi ha salvato il culo siamo tutti qua guardi e mi stavo scusa 50 per te io ho sentito passi qua sotto è infatti sopra che non è un uomo ci sono durata bomba atterrato ho ucciso sono ucciso che sarà da solo intima di scuola fa la prudenza raga ci sono quattro shield bubble qua potrebbero far comodo per dopo se avete spazio mi ha one shotato è qua raga aiuto arrivo oh impreventing sopra tu di giusto te non costruisci qui si da dove sono arrivati è morto è morto è morto è morto mette le mani veloce arriva qualcuno mi sto rebutando penso se ne sia andato ok è buttato tu bene ok è morto praticamente qua ci sono delle armi se vi interessano stiamo prendendo il qua stanno arrivando arrivano qua con l'impulso è il quale tipo è arrivo 40 40 meno male che stanno arrivando tutti uno alla volta ci sparano ancora dove si non so da dove che montagna stanno delta planando qua sopra il tetto centrale ragazzi quello proprio in cima in cima il più alto di tutti e noi da noi da nessuri non altro capolato credo eh si si sta andando via sta volando via c'è una reboot van c'è uno sta rebootando i compagni eh c'è uno sotto sascia c'è uno sotto si si è crono mazzo quindi sto cercando di da sotto dove c'è la trappola e non entrare che c'è la trappola no no è proprio all'entrata quindi è sotto a tutto uno a terra oh cavo bella ste o mercoledì c'è un altro qui ma vai per c***o ma quanti sono tutti qua erano e questo esterno c'è qualcosa per buttare si ok forse ce la facciamo densio a meno che non lo cecchini qualcuno all'altra parte eh Calim grazie ma per caso la chiamata? se mai la chiamata una constatazione non c'è niente qua però sei fuori safe lì eh capito? ecco ma a terra e da che direzione che sparavano? arrivo 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 scusate ma arrivando mi son curato allora io tipo li vedo li vedo quasi fatto fuori uno un atto di mi sta sparando uno è abbattuto da dietro da dietro raga dietro ho detto mazzo provo a darmi una mano occhio raga le trappole eh ho fatto tanto mi son tolto sono più mazzo praticamente morto qua sinistra qua sinistra sopra di noi occhi alla trapposurri ah ma è ah possiamo andare arrivano stanno buscendo voi scappa e davanti a voi c'è c'è l'hust e qua si è morto raga io non ho armi da lontano sturi ce li hai anche le spalle copriti stai giù stai giù ma c'è la safe alle spalle lo stesso no la la dove c'è stato vado a stefano vado a stefano vado a stefano c'è un altro oh arrivano vogliono arrivare vogliono arrivare vogliono arrivare qui 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 giù a me chi è di chiesto lancia granate raga mio 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 no no da me da me cazzo io non l'ho visto bravo bravo disastro no c'è lì a fianco c'è lì a fianco eh purtroppo non l'ho visto mi è arrivata alle spalle stavo guidando voi eh devi provare con questo prima che arrivi l'altro bello no se puoi andarli a prendere da Sasha che è morto no di là no ahhh eh vabbè 14 kg avevamo gotham city mi sembra la scelta migliore bella però la partita mi è piaciuta vai gotham d'altra parte gotham dagli zombie gotham no aspetta ma andiamo dove zombie 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 gotham come gotham ma non era gotham corso commercio vai ma no stavo andando io lì attento ce n'è uno tanta gente AMORE ahahah giusto mi hai lasciato qua da solo e stavo aiutando i l'altri cosa sono oh mio dio i zombie ehm aiuto comunque a 40 di vita il tipo si può andare a seconda la mia targhetta eh solo la dico è quello l'ha che è volato è quello l'ha che è volato ah se n'è dato oooh lasciate in pace zombie vai vai su riverso il rebuttino vai vai lasciatemi un'arma ci sono ci sono ci sono sono troppo forte oooh oooh c'è un ladro eeeh piccola hippie nooo te lo do un fattimo vieni oh che gente spara oh raga ma è possibile che non abbiamo fatto una kill raga ma è possibile che non abbiamo fatto una kill raffido ruggia perché p***e scappa ma dov'è è qua davvero questo l'ho ucciso un altro spara non mi spara ma ho atterrato eh a terra mi sta sparando guarda che pezzo di p***a arrivano c'è lei lì eh ok attento stieni la slur ok sta succedendo com'è che non è morto il tipo lasciamo cadere tutti ok ok hai fatto è un altro che sta succedendo sta arrivando la tempesta stanno sparando anche dei nemici cosa è finita eh io sono morto io non ho speranze di vita secondo me è finita ma chi è? ma non è possibile beh copriti eh grazie ecco da me vai dai shottalo shottalo beppe sono qui eh aiutami a coprire dove sparano non mi sembra ma quanti sono che cavolo è successo ma Sasha è ancora fuori da tempesta eh eh io sono andato furri un altro pompa per voi no Sasha dovevi andare nel coso easy 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 non cambia niente io provo a darmi prima un attimo un falò non lo so perchè ho 19 di vita just a little bit uuuuh un miracolo no che palle sono in nato ma che palle oh arrivano eh ragazzi sono tutti morti eh io ho levato lo scudo però niente io raga non posso darvi una mano dai andate via andate via andate via voi due no 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 stanno seguendo stanno seguendo e scappa ma siamo seri? cioè fuori safe mi hanno seguito? ma il problema è che ora non so come puoi fare a scappare dalla safe fatti una rampa fatti una rampa fatti una rampa bravo bravo questo è un'idea buona forse shifty shaft si riesce a tirarci su sai? dietro forse non ti hanno visto eh non mi hanno visto ti hanno visto il team dei mates esce glorioso e valoroso da questo scontro spero che il video vi sia piaciuto ragazzi se cos'è stato mi raccomando lasciate un bel mi piace commentate iscrivetevi attivate la campanellina un saluto la prossima volta ci sarà la webcam promesso lo giuro è un saluto